pazzesca questa è la situazione più pericolosa nella quale mi sono imbattuto oltre che in 12 anni che faccio questo lavoro in 40 che ho la patente sono all'uscita dell'aeroporto faccio la rotonda per mettermi in via dei trasvolatori in direzione zona industriale mi tengo correttamente sulla destra quando dal dosso che percorro in questo momento si vedono i fari di questa macchina che va velocissima che per fortuna riesco a schivare